Ciao a tutti ragazzi, sono Gongsividol, benvenuti in questo nuovissimo video, secondo tentativo Secondo tentativo di vincere una partita senza mai atterrare su Fortnite Come si può fare? Allora, io posso atterrare in tutte le piattaforme volanti perché non toccano terra Posso usare i veicoli se ovviamente non tocco prima terra per prenderli, quindi ci devo atterrare esattamente sopra E le uniche armi che posso prendere appunto sono quelle all'interno, o meglio all'interno, al di sopra delle piattaforme volanti che ci sono in giro per la mappa Tipo quella che c'è qua vicino a Picco Polare, quella che c'è lì vicino a Par, sì Paradise, a Parco Pacifico Posso atterrare nelle paleoliche perché non tocco terra lì Con terra intendo qualsiasi sia la superficie non distruggibile o gli edifici costruiti sopra Tipo le case o roba del genere Non posso atterrare sui tetti, non posso atterrare su Picco Polare Non posso atterrare da nessuna parte se non in questi posti che vi ho detto Tipo quello che ho pingato malissimo Ma vabbè comunque adesso mi gironzolo un po' per la mappa Mi metto a gironzolare, mi gironzolo non esiste Mi metto a gironzolare un po' per la mappa Cerco uno spot dove atterrare, non penso che a Paradise atterrerò Forse questo vicino a Fatal Magari trovo qualche arma, spero E vediamo un po' come mi va Anche se qua a Picco Polare non dovrebbe esserci andato nessuno Credo, perché stavo guardando un pochino il pulmino E non sembra aver visto nessuno Poi da qua posso atterrare in questa zona di vento che ho qua sotto Sicuro al 100% qua ci arrivo perché l'ho testato prima Però da lì non credo di riuscire ad arrivare molto lontano Vabbè sì Se mi faccio bene tutto il giro atterro anche in quello di Fatal Qua appunto non è atterrato nessuno Non c'è nessuno che ci sta andando Provo a scendere un po' in picchiata anche se sto sprecando un po' Ok qualcuno c'è stato Però non ha preso la mitraglietta La cosa mi va piuttosto bene Spero che sia ancora qui sinceramente No? Era solo di passaggio, ok Perfetto, ma non c'è la cassa Non c'è la cassa Vabbè faccio un po' di mazzo L'unica cosa utile che posso fare al momento Per aspettare la zona è fare un po' di mazzo Oppure Mettermi a volare Ok Perfetto Se ne è andato Allora Questa la spacco Questo lo spacco Spacco tutto quello che si può spaccare qua sopra Ah ma c'era un pompa Non so Buonissimo Peccato che sia uno schifo questa pompa Ma buonissimo il fatto che ce l'ho Allora Qua posso continuare a spaccare tutto Mi faccio un po' di ferro ancora Anche perché non ho altri materiali Non posso farmare alberi A meno che non atterra sopra un albero Ma non posso atterrare sopra un albero Paleoliche vicine No Continuo a spaccare 217 di ferro Non sono male Un momento Ma posso spaccare Proprio tutto 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 No Sembra di no Un cespuglio che si è lanciato Ne ha visto Anch'io Stupido che lo sparo Ok Teoricamente io qua posso spaccare quasi tutto Ormai A parte questo Muro qui che ho dimenticato Ma che dovrei riuscire a spaccare adesso Speriamo tutto bene Che nessuno mi spari Che nessuno mi uccida Dai Arriva qualcuno Ucciso Mi sono fatto un po' di armi Grazie a dio Non ho cure Purtroppo Non ho neanche munizioni Quindi le armi che mi sono fatte Sono inutili Voglio vedere tra quanto arriva la safe Devo ripingarmi Questa zona qui Ok Dovrei essere salvo Per il momento Guardate che ben di dio C'era qui Oh mio dio C'è anche un tipo Via 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 veloce Via veloce Paracadute Ombrello Chiamatelo come volete E via Subito Ho pochi proiettili Dell'assalto Pochi proiettili Del pompa E me ne devo andare Verso la zona In un modo Piuttosto veloce Quindi Cerco di circunnavigare Questa zona qui Forse riesco ad arrivare Anche là sopra No Troppo lontano Però dovrei riuscire A arrivare verso Loot Lake Ok Mi ammazzano Sicuro mi ammazzano 38 HP Pochissimo Non ho cure Non ho nulla Che schifo Sono messo Veramente Di schifo C'è sicuramente Qualcuno Qua intorno 100% Ed è strano Che io non sia morto C'è sicuramente Qualcuno Che è andato In quella centrale Ecco appunto Si sparano sotto di me Ma io non avendo Un veicolo Non posso sparare Da dentro questa cosa Se avessi avuto Un veicolo Sarebbe stata Tutta un'altra storia Ehm Retail Ok Perfetto Posso entrare Dentro retail Per un po' Non più di tanto 16 player in vita Vanno bene Prima zona 16 player Va benissimo Anzi Salgo qua su Ok Perfetto Non sembra Eserci Entrato qualcuno Forse si Si Decisamente si Qua solitamente C'è un po' Di roba E non è così Aperto Mi sa Meglio entrare Dentro E nascondermi Un'altra Mitraglietta Ok C'erano due Casse pure Vabbè Io continuo a farmare Un po' Di ferro Visto che ci sono Almeno quello Lo posso fare Si potrebbe essere Considerato un po' Noiosa Questa partita Ma no Perché è L'adrenalina Che ti viene Quando sono Pochi player E devi per forza Vivere All'interno di Qualcosa di volante Allora Ferro Sono quasi max Questo è carico Mi servono i proiettili Solo quello Mi manca al momento C'è gente Che rifta La cosa Non mi piace Via da qua Via da qua Via da qua Molto velocemente Ok Posso rientrare In questa cosa Di vento Veloce 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 E me ne devo andare Mi ha preso Ho 14 HP Mi ha preso E ho 14 HP Lì non c'è niente Dove posso volare Cavolo Qua al massimo Posso Tentarmela Con i geyser Sì L'unica soluzione Sono i geyser Per il momento Troppe palle Da criceto In movimento Troppissime palle Da criceto In movimento Non toccare Terra Ti prego Yes Cos'è questa Allora Pendo Me ne vado Con calma Non mi hanno visto Ho ancora speranze Qualche speranza Ce l'ho ancora Sì È morto Ok Ti prego Sopravvivi No No Ragazzi Ragazzi Top 10 Top 10 Allora Allora Questo video Lo tengo Faccio un altro tentativo Il migliore Delle tre Lo metto Per il momento Questo è il migliore Ho avuto sfiga Che non avevo armi Non avevo munizioni Più che altro Se non l'avrei provato Ad uccidere Con l'assalto Ma ho finito Proiettili Mentre lo sparavo Quindi mi è andata Piuttosto male Bene ragazzi Per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche i social Che ci sono in descrizione Ci vediamo in un prossimo video Grazie e arrivederci Alla prossima